Cinque cinghiali all'assalto di campi e colture ormai da giorni. La recrudescenza del fenomeno sta preoccupando e non poco la popolazione che chiede interventi specifici e mirati agli organi preposti al fine di mitigare e gestire la presenza degli ungulati. Nella mattinata di ieri è stato un residente di via Cappuccini a fare l'incontro del terzo tipo e immortalare gli esemplari mentre si godevano l'alba e passeggiavano beatamente tra le campagne. Solo la scorsa settimana altri avvistamenti erano stati segnalati e documentati da via De Frentani, traversa di via Pola. Un fenomeno sistematico e abituale soprattutto nell'ultimo periodo che mette in pericolo le colture già messe a dura prova cittadini e automobilisti soprattutto nelle ore trotturne con il rischio di incidenti e gli esemplari stessi. È ora di passare dalle parole ai fatti.